Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi piccolo video haul per mostrarvi un po' gli ultimi acquistini che ho fatto in quest'ultimo periodo Allora, iniziamo subito con i vari acquistini sono sia alcuni di make up per il corpo, alcuni di abbigliamento e alcuni accessori vari Iniziamo subito senza un ordine così prendo tutti i vari prodotti così come capitano Il primo prodotto che ho acquistato è carissimo ed è questo, non so se si capisce ma è un bicchiere da borsetta l'ho preso verde ovviamente e qui è molto carino si toglie il tappeto ed esce il bicchiere molto carino da portare in borsetta quando non si hanno dei bicchieri a disposizione e questo l'ho pagato solo un euro mi piaceva molto l'idea e l'ho preso poi un altro acquistino è questo set da viaggio c'è questa pochettina come vedete è molto carina anche sul retro ed è questo set da viaggio composto da tre flaconcini semplici con il tappetto e un flaconcino con l'erogatore spray molto carino da portare in viaggio molto comodo anche per metterci all'interno shampoo, bagno schiuma tutte le varie cose che possono servire e questo l'ho pagato solo 2 euro davvero convenientissimo e l'ho preso subito anche perché la pochettina è molto carina poi ho ritrovato il mio spray piedi della Dr. Shul e l'ho preso questo qui che deodora e protegge e questo ha un'efficacia di 24 ore tecnologia ossigeno attivo arricchito con aloe vera e vitamina B5 e questo mi piace tanto perché mi dà quella sensazione di freschezza ai piedi ho terminato l'altro flaconcino e l'ho riacquistato subito perché mi piace tanto l'effetto che dà e profuma e deodora ai piedi questo l'ho pagato 3 euro se non erro sì, 3 euro poi siccome sta per terminare la mia crema viso della Essence e non potevo andare al vomero alla coin dove vendono i prodotti My Skin ho ripreso una crema idratante che utilizzavo un po' di tempo fa con la quale mi trovavo davvero benissimo ed è questa qui della Cleanance Hydrat Tea questa qui con acqua di mela e ginkgo trattamento idratante antilucido senza alcol questo è per pelli miste e lucide e alla mela verde mi piace tantissimo perché è una di quelle creme non pesanti hanno una consistenza gel che si assorbe facilmente e mi piace tantissimo anche l'effetto che dà sulla mia pelle e l'ho pagato 5,50 euro poi ho acquistato dei nuovi shampoo e balsamo sempre della Garnier Ultra Dolce ed ho preso lo shampoo all'argilla dolce e anice e questo qui per capelli grassi tendenti ad ingrassarsi che assorbe e purifica questo è senza parabeni con estratti naturali ed io questo qui già lo utilizzavo precedentemente e mi trovavo benissimo per i capelli grassi è davvero ottimo poi ho preso il balsamo è nuovo questo qui e ha latte di vaniglia e polpa di papaya questo qui prima lo facevano solo a latte di vaniglia e ora hanno aggiunto questa polpa di papaya e ha un odore favoloso è davvero buonissimo l'odore e questo distica, ammorbidisce e ripara fino alle punte per capelli lunghi e punte fragili e ho voluto provare questo qui perché io prima utilizzavo quello alla vaniglia voglio vedere se questo qui alla papaya ha qualcosa di diverso e questi li ho pagati 1,85 euro a boccettina poi uno sfizio che mi è venuto all'Ocean avevano alcuni prodotti ad 1 euro e ho trovato questi post-it ne sono 400 guardate com'è carina la confezione tipo a spirale tutta colorata e ci sono dei post-it arancioni, verdi, rosa e gialli molto carini e sono sempre utili poi per 1 euro 400 post-it sono davvero utilissimi poi ho acquistato uno stick labbra dei provinciali questa volta ho acquistato quello al karité io ho già provato quello all'olio di mandorle ma come vi ho sempre detto siccome non amo molto l'odore della mandorla non l'ho riacquistato proprio per quello ma mi è piaciuto davvero tantissimo come stick labbra e ho sentito parlare benissimo di questo qui al karité e l'ho voluto prendere l'ho pagato 2 euro questo qui è protettivo super nutriente senza allergeni, senza BHA testato al glutine è un prodotto vegetale e non vedo l'ora di provare questo qui al karité perché mi incuriosisce davvero tanto poi ho acquistato siccome, come vi ho detto sempre negli altri miei video volevo un po' cambiare di odorante e siccome si avvicina all'estate e di solito col deodorante spray si fa sempre l'alone bianco sotto le magliette e questa è davvero una cosa che io detesto quindi volevo provare un po' qualche deodorante che non lasciasse appunto nessun tipo di alone e ho preso, invece di prendere la confezione intera ho preso questa mini size questo campioncino del Nivea Invisible Floor Black & White 48 ore di protezione non residui bianchi anti-alone gialli questo appunto è un odorante delicato sulla pelle e appunto questo è il formato piccolino da 25 ml e l'ho pagato solo un euro proprio per testare un po' questo prodotto e per provare la sua efficacia e per vedere proprio se la profumazione è dura se davvero fa ciò che promette e quindi se mi trovo bene poi sicuramente acquisterò la confezione normale e non vedo l'ora di provarlo poi un altro prodottino che ho acquistato all'outlet Pupa ci sono stata due settimane fa all'incirca non ho acquistato niente di interessante volevo prendere dei rossettini a 3 euro ma sinceramente ultimamente sto cercando di acquistare meno prodotti di make-up ma non ho resistito a questo ombrettino che costava soltanto un euro stava vicino alle casse quindi proprio i prodotti in super sconto ed è questo ombrettino Matte Extreme 04 il numero 04 e non l'ho lasciato lì proprio per un motivo perché il colore è verde sì, sempre verde ed è questo c'è l'applicatore ovviamente piccolino con scritto Pupa poi il colore è questo qui è questo verde militare che è matte però all'interno ha dei micro glitterini vediamo un po', sguocciamolo sembra molto scrivente è il primo ombrettino Pupa singolo che acquisto perché di solito ho provato gli ombrettini nelle trousse Pupa ma quelli sono abbastanza deludenti spesso quindi provandolo sembra davvero un colore abbastanza pieno e i glitterini diciamo che una volta applicato non si notano tantissimo però qui vi assicuro che ci sono dei glitterini non so se si nota ma ci sono dei glitterini all'interno e quindi ho acquistato questo ombrettino Pupa ad un euro e c'era solo questa colorazione disponibile ovviamente essendo verde non potevo lasciarlo lì poi siccome mi servivano dei cardigan da mettere sulle maglie a maniche corte ora che comunque arriva la primavera e il caldo ne ho presi due di due colori diversi ma che si possono abbinare un po' con tutto e sono andata da Piazza Italia da Piazza Italia e li ho trovati a 10,95 euro ed ho preso una M ed è questo cardigan qui non so se si vede ed è beige color fango molto carino con i bottoncini e poi ne ho preso uno grigio sempre a 10,95 euro e questa è sempre una M ed è questo grigio qui molto carino soprattutto da utilizzare appunto su alcune sulle magliette oppure su un top o più in estate quando le serate sono più fresche possiamo mettere un cardigan che ci riscalda un po' le spalle e niente ragazze questi erano i miei ultimi acquisti spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima ciao ragazze ciao